Sviluppo integrale della persona, rispetto dei diritti umani e pace solidale. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay. La Sala Stampa Vaticana ha reso noto che nel corso dell'incontro ci si è soffermati sulla situazione politica nazionale e regionale, con speciale riferimento allo sviluppo delle istituzioni democratiche e alla situazione sociale ed umanitaria del continente. Evidenziato poi il ruolo e il contributo positivo delle istituzioni cattoliche nella società uruguayana, specialmente nella promozione umana, nella formazione e nell'assistenza ai più bisognosi.